In tutti questi anni non ho fatto che studiare, studiare senza mai avere una vita mia e mi domando a quale scopo. Dubito che qualcuno possa vederti come devota moglie e madre. Non permetterò ad alcuna donna di insegnare o di dominare sull'uomo. Voglio invece che stia in silenzio. Ma per quanto mi risulta il vostro Dio non ha ancora dimostrato di essere più giusto o più pietoso dei suoi predecessori. Oggi i cristiani hanno bruciato un uomo. Io non voglio questa nella mia casa. Fratelli, il Signore è con noi! Sono cristiano! Sono cristiano! Ma da quando ci sono così tanti cristiani? Se tu non sei d'accordo io non potrò più proteggerti. Agura. 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 Agura.